Numero 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 43, Dimola Domenico, un applauso per Dimola Domenico, prometti di dare spettacolo ragazzi, Domenico facci sentire un po' il motore, Domenico Ehi, tre e quattro Guardate le fiamme dagli scarichi, in rilascio Dimola si avvicina ai linei di partenza Per effettuare il suo giro, bravo Domenico, vai 3, 2, 1, partito Adesso chiaramente sta cercando di rispettare il tempo In rilascio butta un po' di fiammelline Primo dei tre tornanti 45 Ricordiamo che il primo giro va effettuato in un minuto e 15 58 Un minuto Ricordiamo che il secondo giro invece deve essere effettuato in un minuto e 0,5 11, 12, 13, 14, 15 15 e 70 E' molto molto vicino Al concorrente numero 10 Che aveva fatto però un tempo più veloce Quindi dovrebbe avere più penalità del Gennaro Un minuto Un minuto Un minuto vediamo che si avvicina al termine della sua prova 2 e 14 15 dovrebbe accelerare un po' alzare il ritmo un minuto 4 e 95 è il massimo finora raggiunto bravo bravissimo prossimo concorrente guardatelo adesso perché vi farà divertire numero 27 Verace Elio 512 TR 512 TR 3 3 3 3 3 4 questo è un altro dei concorrenti che alla fine devono fare qualche giro